Quando siamo stati trasferiti, che è venuto quel trasferimento, era il giorno di, quell'anno lì, primo di aprile, mi sembrava che fosse il giorno di Pasqua e avevamo organizzato noi insieme al distaccamento torsiano di fare l'attacco a Bardinetto dove c'erano i tedeschi e questo resto del capitano Ferrari che erano alloggiati in un grosso locale, allora era la casa del Fascia, adesso è un locale, il Bardinetto lo chiamano, locale pubblico e volevamo fare l'attacco proprio quei giorni lì, avevamo deciso di minare un pezzo di Rocca Barbena e piazzare delle mitragliatici sia verso Calizzano che lì e fare un attacco in quel caso, e avevamo persino questionato, quando ci avevano ordinato di venire qui alla quarta brigata, avevamo preso, ci eravamo in parte rifiutati perché volevamo fare quell'attacco lì, però ci è stato ordinato tassativamente di andare, di partire, siamo andati, siamo venuti lì a pian dei corsi, prima ci hanno ospitato il mio distaccamento, ci hanno ospitato lì a Rebagliati e dove ho conosciuto, avevo visto quel chiappe, 8, partigiano 8 che poi è stato morto pochi giorni dopo, perché ero stato ospitato da lui sotto la tenda, mi aveva, diciamo, non ci eravamo mai visti sui partigiani e so che abbiamo anche atterrato tutta la notte, che brontolavano quelli vicini di tenda, eccetera, e poi siamo andati trasferiti lì, al pian dei corsi, dove c'eravamo stati col distaccamento calcagno, siamo andati lì, io ero praticissimo della zona, e siamo stati lì fin tanto che è venuto il giorno della liberazione, siamo scesi da cosa, poi siamo scesi dalla gola del vento, ci dicono lì, al Trevo, tutto il distaccamento, e siamo andati verso Savona e ci hanno assegnato la posta lì del ponte della Consolazione, la Santa Rita. Mi ricordo che mentre andavamo a prendere posizione in quella posta lì, dalla stazione di Savona ferroviaria, ci è arrivata una raffica, mentre attraversavamo il ponte, ci è arrivata una raffica di mitragliatici, che è picchiato sotto, sotto il ponte, diciamo, se era più alto mezzo metro, ci tranciava le gambe a molti, chissà quanti di noi, e abbiamo preso posizione in Consolice, e mi ricordo che c'era ancora un gruppo di tedeschi che aveva resistito lì alla stazione, all'Ettimbro di Savona, e quando ci avevano sparato, mi ricordo che lì di fianco, c'era vicino alla stazione verso Santa Rita, c'era ancora qualche casa di abitazione, e c'era una donna che ci faceva segno così, dicendo che i colpi sono partiti da là, insomma. Ricordo che avevamo piazzato una mitragliatrice di quelle anti-aeree che avevamo presa a finale, e abbiamo sparato alcuni colpi là dentro, ma poi avevano detto che si erano resi alla SAP di Savona, mi sembra lì, quel gruppo di tedeschi che erano ancora lì che avevano resistito.